Buona la prima per l'Atletico Ascoli, che vince di misura contro la Forza Impronese nel turno preliminare di Coppa Italia allo stadio di Monticelli, davanti a circa 200 spettatori, tra cui gli ex-presidenti dell'Ascoli Giuliano Tosti e Francesco Bellini. La partita parte a ritmi bassi e con poche occasioni da gol da ambo le parti, giustificate anche dall'alta temperatura. La gara si sblocca alla mezz'ora su iniziativa di Clerici, che grazie ad un'ottima giocata personale offre a Traini una palla-gol, che riesce a concretizzare, portando in vantaggio la squadra di casa. Finisce così un primo tempo a secco di grandi occasioni. La situazione cambia già al quarto del secondo tempo, sempre grazie ad una iniziativa di Clerici, che mette un buon cross a Traini, che però questa volta non riesce a concretizzare. La Forza Impronese inizia ad alzare l'asticella a partire dal dodicesimo, con una punizione di Germinale, che tira alto sopra la traversa. Gli ospiti si fanno ancora sentire con una serie di azioni ben sviluppate, che però nessuno riesce a finalizzare. Al venticinquesimo rispondono i padroni di casa su iniziativa di Olivieri, che fornisce un'ottima occasione da gol a Cinaia, che però sfiora il palo. Si fa sentire ancora l'Atletico Ascoli, con una grande visione di gioco da parte di Vecchiarello, che effettua un cross per Cinaia, ma quest'ultimo, al momento del tiro, viene fermato dal giocatore avversario. Al quarantaduesimo, grande occasione per la Forza Impronese con Fagotti, che per un soffio non porta in pareggio la partita. Pochi minuti dopo, Procacci col Mancino tira una punizione potente, che esce a fil di palo. Occasione incredibile per gli ospiti. L'Atletico Ascoli non molla e, poco prima del fischio finale, rischia di raddoppiare con Cognigni, che viene fermato da un'ottima parata di amici. L'Atletico Ascoli vince il turno preliminare e stacca il pass per un derby storico, con la San Benedettese, domenica al Riviera delle Palme. L'Atletico Ascoli